Ci risiamo, nuova emergenza idrica in città in questi giorni. Alle diverse lamentele giunte ieri alla nostra redazione sui disservizi nell'erogazione dell'acqua dalla zona di Velicata e dei vicoli vicini, stamattina si sono aggiunte quelle dei residenti della zona est di Sciacca, per intenderci da Isabella, Sant'Antonio e Sovareto, contrade dove sono saltati ad oggi tre turni di erogazione, praticamente una settimana senza acqua. Al call center di Girgentiacco, affermano alcuni telespettatori alla nostra redazione, non hanno saputo fornire risposte sui tempi di ripristino perché, avrebbero detto, il livello nelle vasche è ancora troppo basso. Di più, gli utenti che hanno chiamato il gestore idrico dicendo di essere a secco sono stati pure inseriti nell'elenco dei destinatari di un'autobotte, ma sono stati anche avvertiti dai tempi lunghi di attesa, considerate le troppe richieste. In soldoni, meglio arrangiarsi con gli autobotti private. Delle lamentele si è interessato il sindaco Fabrizio Di Paola, che ha chiesto spiegazioni ai Girgentiacque. Sembra che alla base del problema ci sia il surriscaldamento delle pompe di erogazione. Probabilmente lo stesso problema o qualcosa di simile era avvenuto già nelle scorse settimane per le pompe dei Pozzi Carboi, quando i turni di erogazione saltati erano stati almeno due. Ma la spiegazione fornita al sindaco non è sembrata sufficiente e Di Paola avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti ai Girgentiacque. Per il primo cittadino, qualunque sia la causa determinante di questi disservizi e competenze il gestore idrico risolverli è nel breve tempo. Problemi che tornano puntuali giusto in estate, quando un surriscaldamento delle pompe, viste le alte temperature, è pure immaginabile. Sarebbe altrettanto immaginabile prevenire ed evitare il ripetersi di questi disagi in un periodo in cui in città quasi raddoppiano gli abitanti e le esigenze legate all'approvvigionamento. Insomma, quella iniziata ha già tutta l'area di essere un'estate l'insegna delle emergenze idriche nel territorio, dal momento che siamo alla seconda in poche settimane. Il rischio è che, come negli scorsi anni, a pagarne le conseguenze siano sempre i cittadini e i turisti della città, ospiti delle strutture ricettive rimaste in passato a secco oppure loro. E se il guasto ci può anche stare, basterebbe non farsi trovare sempre impreparati, soprattutto in estate. Grazie a tutti.